Questo video riguarda i migliori tre fotocamere endoscopiche di ispezione. Il vincitore della qualità è il BT periscopio. L'ottimo strumento per valutare e diagnosticare problemi automobilistici, condotti o domestici. Con la micro telecamera di ispezione, puoi facilmente controllare il cilindro o la parete interna prima di smontare la tua auto o rompere il muro per creare un piano d'azione economico ed efficace. Sulla sonda dell'endoscopio viene aggiunta una telecamera di visione a 90 gradi aggiuntiva, che può passare dalla telecamera frontale a quella laterale mantenendo il periscopio all'interno dell'area di ispezione corrente. Il display dell'endoscopio aggiornato a un monitor full view da 4,5 pollici da un monitor da 4,3 pollici, rende l'immagine in tempo reale tre volte più chiara del vecchio schermo da 4,3 pollici. Batteria ricaricabile incorporata da 2500 mAh e supporta un uso prolungato e una ricarica rapida, questo endoscopio portatile può essere utilizzato immediatamente dopo l'avvio, non è necessario utilizzare lo smartphone per collegare il wifi e non è necessario scaricare alcun software del driver. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il LTG endoscopio. Il pulsante dell'interruttore della fotocamera è integrato sul cavo per attivare la fotocamera laterale. Una fotocamera extra HD è costruita sul lato della fotocamera principale per aiutare a rilevare i lati del tubo. 2,0 MP Borscope ti offre una meravigliosa esperienza di catturare una chiara video HD a distanza ravvicinata a AVI. Formato e immagine in ilunga PG. Formato con risoluzioni regolabili 640x480, 1280x720 e 1920x1080. La nostra batteria agli ioni di litio built-in con capacità ad alta capacità e ricarica supporta un lungo periodo di tempo di ricarica rapido. La sua gamma di temperature applicabile. Da 32 gradi Fahrenheit a 113 gradi Fahrenheit. Bello tempo, puoi contattarci se hai domande, sono contento di servirti. Il vincitore del premio è il Teslong l'endoscopio. Con uno schermo LCD a colori da 5 pollici, 127 mm, scheda TF da 16 GB incorporata, la sua risoluzione della fotocamera è pari a 1080p, che viene utilizzata per l'acquisizione di immagini e la registrazione di video. Rispetto ad altri endoscopi, NTS 500-3M, 5,5 mm l'endoscopio ha una doppia lente, che può essere cambiata a piacere, e può essere applicata a diverse scene per rendere l'osservazione più dettagliata. Telecamera impermeabile IP67 con diametro inferiore a 5,5 mm, dotato di 6 luci LED regolabili, utilizza il tradizionale tubo a collo di cigno in metallo di alta qualità, è più facile espandere il campo visivo a uno spazio più stretto e mantenere la sua forma invariata. Le batterie ricaricabili integrate al litio da 3500 mAh ora supportano endoscopia in modo da funzionare ininterrottamente per 4 ore. Non è necessario cambiare frequentemente le batterie, basta ricaricarle. I prodotti Teslonga hanno una garanzia di un anno. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.